Avere un cancro, combattere contro il cancro, necessita di molta forza, ma questa forza va spalleggiata anche dalla società. Donne che raccontano di una rinascita, di un ritorno alla vita e questo grazie al lavoro. È stato soprattutto un momento d'incontro per parlare dell'importanza, dell'esperienza vissuta e dell'opportunità offerta a 145 donne colpite da carcinoma mammario che sono state coinvolte in progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa. Ieri in Regione sono stati illustrati i risultati dell'iniziativa fortemente voluta dall'assessorato al lavoro e alla formazione professionale guidato da Stefano Guzzi. Questi progetti, finanziati dal PORMARC FSE, il Fondo Sociale Europeo, con una dotazione di risorse pari a 750.000 euro, sono stati avviati nel 2020 e si sono conclusi da poco. Hanno previsto la realizzazione sia di azioni di orientamento sia di azioni di politiche attive del lavoro attraverso l'attivazione di borse lavoro per donne disoccupate. Tra le tante attività che ho avuto modo di portare avanti in questi due anni e mezzo di mandato, ha detto Guzzi, questa è una di quelle più significative e nobili. Ma soprattutto c'è un'attenzione, un accompagnamento a un reinserimento vero e proprio di vita per chi ha avuto seri problemi, ha incontrato seri problemi durante il suo percorso di vita, come le donne che hanno dovuto affrontare il calcinoma al seno. Queste persone attraverso questa iniziativa le abbiamo un po' riprese per mano, riaccompagnate anche attraverso la formazione, anche attraverso corsi formativi. Le abbiamo reinserite per quanto è stato possibile nel mondo del lavoro dove già operavano o nel mondo del lavoro quando erano disoccupate. Ma secondo me le abbiamo fatte riprendere accompagnandole e sostenendole in un percorso di vita che gli ridarà tutta la forza necessaria per riprendere il loro normale percorso e giusto percorso. Per questo dico forse una delle iniziative più nobili alla quale sinceramente tengo tantissimo e oggi ne vediamo i risultati. I dati e le testimonianze hanno evidenziato che una delle problematiche più sentite dalle donne operate di tumore al seno riguarda il lavoro e che vi è una diffusa esigenza di maggiore informazione sui diritti di coloro che si assentano per l'intervento chirurgico e per le successive terapie. La testimonianza di Montpagliari, psicologa del lavoro, è molto chiara e pone diversi spunti. Ho conosciuto questo progetto, ha detto, grazie al centro per l'impiego di Pesero Urbino. Nel momento in cui mi sono ammalata nel 2018 perso il lavoro, poi ho avuto questa opportunità. Ora ho trovato un nuovo lavoro, sono psicologa all'interno di Eurolex Servizi e mi occupo di accoglienza a migranti di prima accoglienza. Ritrovare un lavoro che sia adeguato ad una nuova donna, cioè una donna che ha affrontato un cambiamento, che sta affrontando un cambiamento, trovare un lavoro che la faccia sentire realizzata è parte della guarigione. Ho notato spesso che manca questa sensibilità, cioè la donna malata diventa un peso per l'azienda, perché non è più produttiva come doveva esserlo prima, non è più quella che doveva essere prima. In realtà, se ci fosse un'accortezza e una comunicazione migliore tra la donna e l'azienda, si potrebbero ottenere risultati ancora più validi, perché la persona formata e riorientata potrebbe rivestire un nuovo ruolo e quindi avere ancora più valore all'interno dell'azienda. Abbiamo questo senso di colpa nell'essere malate, la malattia non ce la siamo scelta noi, cioè a noi c'è piombata addosso e quindi è una cosa che già stiamo affrontando, abbiamo bisogno di essere aiutate e dobbiamo chiedere aiuto, perché ne abbiamo diritto.